Oh! Salve, buongiorno. Mi darebbe un grattevinci, per favore? Quale vuole? È quello da 10 euro, che si vincono 5 milioni. Ho bisogno di soldi. Cazza roba, non ho fatto niente, ho perso. Me ne die un altro, presto! Anzi, ve li die a tutti. Ma ce li hai i soldi per pagare? Stia tranquillo, ho fatto i tagli alla scuola apposta. Ma quanto vuole vincere, ministro? 20 miliardi. Devo creare un fondo per le imprese. Che sfida! Porca puttana! Perso pure con questo. E che pelle! È tutto a colpa dell'erdo!